E' con grande emozione che saluto da Lampedusa i ragazzi che partecipano al Museo di Cartanistetta in concorso con oltre 68 scuole provenienti da tutta Italia. Grazie ad un'idea del professore Porretta, che insieme al professore Bonfiglio e Paolillo stanno curando la partecipazione dei ragazzi al concorso, ma tutta la sezione musicale della nostra scuola che è stata veramente un grande regalo fatto a Lampedusa perché la musica, come la cultura e i libri, è un ponte per abbattere l'isolamento, per collegare Lampedusa al resto del mondo, per affermare i valori dell'accoglienza e di un Mediterraneo di pace che è la lezione più grande che credo i Lampedusani abbiano dato al mondo in questi anni. Un caro saluto!